Ariete. La verità offende, si dice, e voi oggi parlerete senza mezzi termini a una persona di famiglia. Anche se vi conosce molto bene, potrebbe rimanere molto risentita per il vostro modo di esprimervi. Forse un pizzico di tatto in più non l'avrebbe urtata così e forse occorre rivedere certi vostri atteggiamenti. Toro. Potrete vivere una giornata lontani dai vostri luoghi abituali. Scoprire nuovi paesaggi, nuove strade e magari nuovi piccoli ristoranti sarà per voi una sferzata di energia e di ottimismo. Potreste fare acquisti dolci da portare a chi vi è particolarmente caro. Insomma, cercate di divertirvi. Gemelli. Girerete tutto il giorno senza una vera meta. Sentite solo la voglia di respirare aria di libertà. Non ci saranno particolari motivazioni che vi spingeranno in certe direzioni. Proprio per questo potrebbe capitarvi un incontro veramente speciale. Tenete gli occhi aperti. Cancro. Accompagnerete, magari senza esserne troppo entusiasti, una persona a fare shopping. Vi accorgerete, man mano che il tempo passa, che la cosa vi piace moltissimo e tornerete a casa stanchi ma con le mani cariche di pacchetti per voi e i vostri cari. Leone. Non male l'idea di riprendere le fila di un discorso interrotto molto tempo fa per riesaminarlo sotto altri punti di vista. Forse potreste accorgervi che pur con qualche variazione potrebbero nascere nuove situazioni particolarmente allettanti. Vale la pena approfondire tale passionalità. Vergine. Vi sentirete stimolati ad ampliare la cerchia delle vostre conoscenze. Non siate però poi eccessivamente rigidi nel giudicare le persone che incontrerete. Tentate di accettarle senza alcuna riserva. Potrebbe esserci qualcuno tra loro che avrà molto in comune con voi. Bisogna sciogliersi un po'. Bilancia. Apprezzerete ogni momento della vostra giornata che partirà alla grande. Avrete intuizioni che si riveleranno giuste e vi permetteranno scelte di sicuro successo. Non siate poi troppo severi con voi stessi quando vi accorgerete di essere particolarmente stanchi. Scorpione. Non pungolate le persone che vi attorniano solo per il gusto di non tacere e scaricare la vostra tensione. Datevi piuttosto da fare. Se le vostre energie sono così represse, usatele per dare una mano a qualcuno che potrebbe averne bisogno. Moderare la velocità in auto. Sagittario. Una lunga camminata senza una meta precisa sarà quello che programmerete per questa giornata. Niente impegni particolari, solo la voglia di respirare un po' d'aria particolarmente fredda, ma che vi darà la sensazione di un'incredibile libertà. Capricorno. Vale la pena, almeno per oggi, dimenticare ogni insoddisfazione e regalarsi una giornata piena di tutto ciò che a voi piace. Oggi poi sentirete un particolare richiamo per ogni forma d'arte e non sarà affatto difficile incontrarvi in qualche museo. Una giornata dalle sensazioni diverse. Acquario. Potreste dedicare l'intera giornata allo sport. Vi troverete benissimo in mezzo agli altri e di colpo riuscirete a dimenticare i grossi impegni alla cui realizzazione state così seriamente lavorando. Dedicatevi maggiormente anche al vostro aspetto esteriore un po' troppo trascurato. Pesci. Vi dedicherete con particolare amore alla cura della vostra casa. Cercherete forse di trovare una nuova disposizione dell'arredamento. Fate coincidere le vostre esigenze con quelle di chi vi vive accanto. Trovate una soluzione di mezzo che faccia piacere a tutti.